buongiorno 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata ai principali indici azionari ieri che dire complimenti complimenti al mago e non a caso lo chiamano il mago toni cioli puviani ho fatto sentire l'audio un estratto faccio vedere dall'interno della trading zona questa è la trading zona la tua postazione di trading gratis e quotazioni le stream tv gli streaming gratis di sky tg24 le news cmbc italia interagisci con tanti traders e poi può essere seguito da dei professionisti vedete lì le uniche stanze a pagamento che comunque si possono avere gratis grazie a delle promozioni con broker partner vedi sono qui e tra cui c'era quella di toni che ieri vi ho fatto ascoltare siamo entrati un attimo nella sua chat room e abbiamo parlato abbiamo sentito che lui già dalla giornata precedente di mercoledì sera vedeva aveva questa view ribassista sul l'indice italiano e ieri mattina ancora di più insomma si esponeva al ribasso complimenti complimenti a toni tra le altre cose se venite nel mio sito e trovate sotto anche nella descrizione di questo video il link che rimanda oppure vedi sopra sta passando adesso renatodecarolis.it questo è il mio sito internet da renato de carolis trading zone servizi premium toni cioli piovani puviani che non scusa toni c'è una presentazione del servizio e c'è anche un video potete vedere qui la registrazione di una diretta che ho fatto proprio con toni e giorni scorsi in cui spiega la sua strategia e poi ci sono le varie opzioni di abbonamento che vi consiglio di sottoscrivere questi prezzi sono validi fino alla fine del mese quello semestrale diventerà un mese quindi adesso vi abbonate avete sei mesi il servizio quello che dal primo febbraio sarà praticamente il prezzo di un mese poi vedete qui ci sono le possibilità di avere gratis il servizio quindi comunque vieni vieni nel mio sito e potrai avere maggiori informazioni e adesso che cosa succede dopo il grande la grande intuizione del mago è dovete abbonare che vi posso dare sempre tutti i giorni le indicazioni di toni quindi venite lì e lui pubblica tanti audio vi seguo vi pare come averlo in postazione con voi tutti i giorni io quello che posso dirvi dal mio lato ai chi nasce vedo una bella candela rossa e quindi riprende il trend ribassista pensavo insomma si poteva presumere dopo queste candele verdi che potessero fare da trampolino di lancio al rialzo su quella che era una zona ex di resistenza niente vendite 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 in maniera importante sul nostro indice vedete un po come stanno andando in maniera pesante anche gli altri meno due in questo momento piazza affari il dax che ripiega da quella che era la resistenza sotto la resistenza dei massimi storici si conferma ancora tale l'euro stocks meno uno anche qui una condizione di possibile ribasso torna il rosso dopo gli attacchi degli ultimi giorni la francia meno 1 17 a lunga lunga nuovo minimo di periodo da quando c'è stata questa configurazione grafica ribassista e anche la spagna nuovo minimo per la spagna l'indice inglese è vicino al livello minimo di 15 gennaio l'america 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 stanno lì gli americani sono lì al rialzo questo è il dow jones standard e pur che hanno chiuso praticamente invariati e resta la situazione grafica ai chi nasce come si può vedere al rialzo e nasdaq che c'è da dire più 0 82 tutto al rialzo per quanto riguarda quindi wall street con l'europa che in questo momento soffra soffre 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 di più bene si chiude qui ti aspetto ti aspetto nella trading zone è tutto quello già che ti ho detto inutile ripetere buon weekend a tutti grazie arrivederci